Vado? E allora, oggi la USB Siracusa Provinciale è qui per protestare contro l'atteggiamento antisindacale della dirigenza provinciale, dell'amministrazione e per il fatto che abbiamo in itine l'apertura di distaccamento di Priolo e mancano le unità, unità che quelle poche che abbiamo vengono utilizzate o distratte per altri compiti non istituzionali aderenti al soccorso tecnico urgente e quindi oggi abbiamo avuto l'incontro con il capo di gabinetto del prefetto per discutere proprio di queste problematiche che ci vedono in questi mesi dopo aver anche fatto uno stato di legislazione non andato positivamente e perciò noi abbiamo cercato ora di interloquire con tutte le autorità competenti provinciali per riaprire di nuovo un dialogo.